Non solo valorizzazione del Cedro, ma anche dialogo tra i popoli e le religioni. La sedicesima giornata europea della cultura ebraica svoltasi ieri a Santa Maria del Cedro non è stata incentrata solo sul sacro agrume, ma anche sul bisogno impellente del dialogo. Ponti e attraversamenti, questo il titolo dato alla manifestazione organizzata dall'Accademia Internazionale del Cedro, con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro e alla quale ha collaborato anche il Consorzio delle Proloco della Riviera dei Cedri e dell'Alto Tirreno Cosentino. Il dialogo quindi antidoto a tutte le guerre che si stanno combattendo. L'unica alternativa in un momento di crisi lacerato, come è il nostro mondo attuale, alla guerra e alla violenza. Questo naturalmente non significa rinunciare alla propria identità, ma semmai ben definire la propria identità, condornarla meglio, esaltarla, però tenendo conto anche delle differenze e magari delle prerogative che le altre culture ci possono offrire. La Calabria diventa, grazie a cinque comuni della Calabria stessa e della nostra regione, punto di riferimento dell'ebraismo, in quanto si è registrata nei secoli una presenza attiva, importante e proficua degli ebrei. Una manifestazione importante per Santa Maria del Cedro, che porta il Comune Artotirrenico in Europa, come sottolineato dall'assessore al bilancio della Giunta Vetere, Carmine Maietta. Noi ci sentiamo a Santa Maria parte integrante di questa cultura ebraica che vede l'ebraismo come un fatto culturale di vicinanza, di collegamento, di ponte tra i popoli e tra le nazioni, specialmente in un periodo come questo in cui si parla di barriere e di quant'altro, il collegamento, il ponte tra le diverse culture e le diverse etnie è un fatto fondamentale, un fatto indispensabile. E poi il Cedro, l'importanza di questo frutto e della sua commercializzazione. Bisogna fare di più e mai stancarsi di promuovere questo agrume sacro, come ha detto il presidente dell'ex consorzio Vallelao di Scalea, Davide Gravina. È chiaro che la responsabilità nostra di veicolare anche a livello commerciale un prodotto di grande importanza merita la massima attenzione di noi tutti. Ecco perché la nostra presenza, ecco perché riteniamo fondamentale continuare questo dialogo affinché non solo ci sia una ricchezza di confronto sui contenuti con la cultura ebraica ma attraverso di loro possiamo esplorare cambi non soltanto economici che fino ad oggi non sono stati esplorati. A chiudere il convegno i consiglieri regionali Mauro D'Acri e Orlandino Greco, entrambi giunti a lavori iniziati. Nei loro interventi è stata sottolineata l'importanza di affidare lo sviluppo del comparto agricolo a progetti ben definiti e il cedro può essere uno di questi. Greco ha anche puntato il dito contro chi ha però deturpato il territorio del Tirreno Cosentino con vere e proprie cattedrali nel deserto.